oh riaccoci col nostro cuscino ricamato e sappiamo benissimo che quando c'è il cuscino cosa abbiamo cosa abbiamo tac o allora abbiamo un altro confronto un altro confrontino un altro confrontino interessante anche se come per l'esempio il confronto che abbiamo fatto con tra nikita capolavoro assoluto e quella gran merda di nomi in codice lina anche qui abbiamo un confronto che a mio avviso è un confronto abbastanza impari cioè non c'è partita perché qui cazzo qui abbiamo abbiamo rollerball fantastico capolavoro del 75 di norman jewison con il meraviglioso james can meraviglioso fantastico e quindi abbiamo cioè abbiamo una qualità incredibile abbiamo un whisky doppio malto cazzo e poi qui abbiamo il suo fottuto remake di merda del 2001 tra l'altro con cazzo con anche con genre no ma a volte non si capisce e questa è praticamente se questo è un whisky doppio malto questo qui ragazzi questo qui è l'acqua questa qui è l'acqua rocchetta cazzo l'acqua rocchetta comunque non non bruciamo le tappe mettiamo da parte un attimo questa merda qui perché dobbiamo parlare di questo fottuto fantastico capolavoro allora come dicevo prima rollerball è un film che a mio avviso è un film che se non avete mai visto vi siete persi un film incredibile perché è un film che osa è un film che prima di tutto è un film che ha un ha un messaggio di fondo di una potenza di una potenza inaudita cioè è uno di quei film che poi lo vedete e quando finisce il film vi sentite carichi di una potenza di un'adrenalina incredibili non molti film riescono a dare quella sensazione qua questo film qui ce la fa in pieno anzi è uno dei capostipiti di quei film lì dei film che ti sanno dare una potenza ti sanno trasmettere questo messaggio qui poi ne parleremo dopo fra un po in una maniera incredibile cioè in una maniera ineguagliata ma veniamo un attimo un po spiegare che cos'è rollerball perché molti magari non conosceranno magari molti purtroppo conosceranno questa merda qui invece del film da cui è tratto questa merda qua allora rollerball è un film molto particolare nel senso che è un film ambientato in un futuro prossimo ecco un futuro prossimo distopico assolutamente distopico dove praticamente il mondo è cambiato il mondo è cambiato nel senso che comunque il mondo non è più diviso cioè non è non è più governare gli stati del mondo non sono più i continenti non sono più governati dai dai governi appunto ma sono governati e in qualche modo influenzati indottrinati dalle corporazioni cosa sono le corporazioni le corporazioni sono questa forma di nuova di dittatura che governa il mondo e che ad ogni continente ad ogni stato ad ogni diciamo divisione del mondo si richiede ai cittadini e comunque a alla società del mondiale di dare un contributo alle corporazioni è un futuro allucinante perché comunque una già comunque come come idea è molto bella questa idea qui del di un futuro prossimo dove dove non ci sono più governi ma ci sono le corporazioni le corporazioni che dettono regole cioè le multinazionali che in determinati settori producendo fa bisogno per il mondiale in determinati settori sono diventate potenti che hanno in mano proprio il governo del mondo il governo sono loro che governano il mondo che dettono leggi nel mondo ecco già quello di lì è incredibile poi c'è un'altra idea che subentra per dare forza a questa sineggiatura qui a questo a questa visione qui distopica che nel mondo la violenza in tutte le sue forme è stata bandita è vietata la violenza non esiste più non infatti vedrete che in questo film qua la società che si è creata dopo questo questa modifica qui di questo bando questo bando della violenza in tutte le sue forme ma non è proprio così perché poi ci torneremo fra qualche secondo si crea una società che è diventata una società quasi quasi meccanica nella sua vita odiare di tutti i giorni cioè le persone sono diventate quasi sono diventate quasi anestetizzate cioè vivono una vita ordinaria hanno le loro routine hanno dei comportamenti molto molto meccanici molto sistematici nella loro vita perché non non possono fare altro la violenza è bandita in tutte le sue espressioni e quindi vivono una vita di routine la routine proprio estrema ecco violenza bandita in tutte le sue forme tranne tranne e qui c'è l'idea incredibile tranne che per il rollerball perché il rollerball non è nient'altro che uno sport è uno sport del futuro uno sport violento iper violento è che tra l'altro è lo sport è l'evento sportivo ma anche forse l'unico evento seguito da c'è da migliai milioni e milioni e milioni di telespettatori cioè è l'unico evento sportivo che viene seguito a livello mondiale c'è tutto perché tutti trovano nel rollerball la possibilità di sfogare la propria violenza repressa e i giocatori che giocano al rollerball e ma soprattutto il pubblico che immedesimandosi in questo sport qui nei giocatori nei loro beniamini riescono in qualche modo nella vita di tutti i giorni nelle giornate opache anestetizzate sedate di tutti i giorni riescono a dare sfogo alla propria violenza repressa ecco il rollerball il rollerball durante la sceneggiatura lo spezzone di di sceneggiatura che vedremo che questo film qua vi farà vedere nelle due ore un'ora un quarto due ore della durata del film noi apprendiamo fin da subito che il rollerball ha un campione ha un campione imbattuto da mai un sacco di anni che è diventato proprio il giamino proprio dello sport stesso che niente po po di meno che il personaggio interpretato dal fantastico james canne meraviglioso eccezionale james canne che interpreta appunto il campione di rollerball jonathan cross ecco adesso qui facciamo una piccola parentesi cioè jonathan cross jonathan cross è il nome originale del personaggio purtroppo ma ma chi se ne frega anche per un film del genere che è del 75 purtroppo lo sappiamo che in quegli anni lì i nostri doppiaggi italiani si prendevano delle libertà incredibili delle cose che adesso coi copyright sui nomi sulle sui brand sui sui franchises non non potrebbe più succedere in assoluto una roba del genere ecco perché dico questo perché nel doppiaggio italiano di rollerball del 75 il personale il nome del personaggio di jonathan cross viene tradotto alla lettera nel senso jonathan lo lasciano jonathan perché figa sarebbe stata una puttanata tradurlo in giovannino che cazzo ne so però mi traducono letteralmente il cognome cross cross che significa letteralmente inglese croce croce o comunque x ecco nel doppiaggio italiano il personaggio di jonathan cross viene chiamato jonathan x cioè una roba allucinante comunque questa piccola parentesi curiosa ecco jonathan x è il campione del rollerball da un anni è l'idolo delle folle è l'idolo del pubblico ed è appunto la valvola di sfogo cioè il pubblico si immedesima in jonathan cross e lo incita lo applaude vuole 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 vedere sempre vuole seguire le partite dove dove lui lui gioca nella squadra mi pare del distretto di new york mi pare adesso non mi ricordo bene comunque il pubblico non si aspetta altro che vedere jonathan cross segnare vincere far vincere la sua squadra devastare gli avversari ecco ma che cos'è il rollerball cioè che sport era il rollerball non è nient'altro che è una specie di di football americano del futuro un football americano dove i giocatori come nel football americano sono attrezzati hanno addosso questi corpetti queste 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 protezioni incredibili ginocchiere paragomiti parapetto spagliere caschi integrali e la particolarità però è che non giocano con una palla ovale come nel football giocano con una sfera d'acciaio una sfera d'acciaio della grandezza poco più poco più grande di una palla da tennis ma una sfera d'acciaio e giocano su dei pattini e rotelle girando su una pista praticamente ovale che può sembrare una specie di velodromo ed è uno sport è uno sport violentissimo dove sono ammessi i contatti sono ammessi sono ammessi delle robe allucinanti ripeto perché deve essere proprio una cosa che dà sfogo dove il pubblico e i giocatori stessi riescono a sfogare questa violenza che nella società è stata bandita completamente ecco questo film qua ha una sensatura incredibile perché noi vivremo vivremo uno spaccato di vita di jonathan cross e poi non voglio fare spoiler ci sarà questo 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 epilogo incredibile questo epilogo incredibile che si rifà che appunto torniamo a quello che dicevo all'inizio del filmato cioè che rollerball è un film che è pregno di un messaggio di un messaggio di una potenza inaudita cioè questo film qua dovete pensare a questo film qua come un film che vi darà un messaggio allucinante cioè vi darà praticamente il messaggio per farla breve il messaggio che vi vuole dare quel film qua è del singolo che riesce a mettere alle corde la collettività cioè della persona dell'uomo che riesce a ribellarsi e a sopraffare l'istituzione e che entra nella leggenda diventa una leggenda diventa un martire una leggenda un'ideologia che non si riesce a piegare è un immagine è un messaggio di una potenza poi se vedrete il film e vedrete come finisce vi renderete conto di quello che sto dicendo è una roba allucinante quindi rollerball a mio avviso è un film è un film che va visto è un film che dovete assolutamente recuperare se non avete mai visto dovete assolutamente avere nella vostra cineteca perché è un film seminale dal punto di vista proprio della potenza del messaggio che vi vuole dare ecco spendiamo due parole un attimo sulla crona sonora che vi dico subito in questo caso qui non abbiamo la famosa sinergia che vi dicevo delle musiche che sono proprio c'è proprio sono parti integranti del film anche in questo caso qua non è così però non è non è un grosso difetto nel senso che per un film come rollerball questa è la crona sonora guardate questa qui è è proprio la locandina originale è stupenda per un film come rollerball si è pensato si è pensato di supportare supportare questa ideologia questo mondo distopico questa società così diversa così modificata così assettica così strana del fatto che di queste corporazioni che governano il mondo che la gente è sopraffatta della monotonia dell'ozio perché non può sfogare non può dare sfogo se non seguendo rollerball alla propria violenza interna repressa si è optato per una crona sonora che per lo più potete vedere già subito da cazzo dai pezzi che contiene questa grona sonora qua si è optato per una musica classica per un commento di musica classica cazzo qui abbiamo la toccata in d minore di buck che è praticamente non essendo qualcosa di composto apposta per il film cazzo la toccata e fuga in d minore di buck è il tema principale del film e poi se vedete il film capirete perché dico questo e poi abbiamo altri pezzi classici come la sinfonia numero 8 di di sostrakowicz abbiamo dei pezzi di albinoni ciaikoski cioè si è optato per musica classica e a mio avviso è stata una scelta molto valida perché comunque ripeto una musica classica così imponente come la musica classica che la musica classica è un'imponenza una potenza incredibile riesce a dare proprio questo senso di futuro distopico strano molto particolare molto quasi quasi futuristico nonostante sia un futuro prossimo molto molto non sono le macchine volanti o cose del genere però è comunque un'analogia secondo me che ci sta seppur ripeto non parliamo questo non sia un esempio di un film che abbia proprio una colono sonora che si le tiri via gli tiri via più del 50 per cento del dell'atmosfera non è questo il caso però ripeto la colono sonora di rollerball nel film fa la sua figura ha il suo significato ecco quindi chiudiamo la parentesi la parentesi del whisky doppio malto whisky doppio malto e ripeto recuperate perché è una roba da volare poi c'è un james cannes james cannes in quegli anni era un attore della madonna cioè un attore incredibile ecco tiriamo via chiudiamo la parentesi del whisky doppio malto perché adesso dobbiamo parlare purtroppo purtroppo dobbiamo parlare anche dell'acqua rocchetta questa qui è l'acqua rocchetta allora rollerball del 2001 allora evidentemente in premiera 2000 qualche stronzo hollywood ha pensato figa cioè facciamo un remake di un film della madonna come rollerball del 75 che è un film della madonna cioè ecco facciamo un remake di rollerball figa sport estremo sport violento figa chiamiamo jean renault cazzo chiamiamo jean renault che figa jean renault cioè figa piace a tutti porca puttana ok però qualcuno avrà pensato ma non facciamo un remake un remake 1 1 cioè un remake perfetto dove andiamo a prendere tutta la magnificenza la trama la sceneggiatura di questo capolavoro qua l'ideologia il messaggio mega potente del dell'uomo che riesce a schiacciare la società il governo e diventa una legge no ma va che cazzo dite facciamo rollerball e facciamo che il rollerball è uno sport estremo violento grazie a tutti